I sindacati scendono in piazza contro la manovra del governo. Gli 8 miliardi per il taglio delle tasse sono troppo pochi e sbilanciati verso i redditi medio-alti, attacca Landini. I sindacati scendono in piazza contro la manovra del governo. È una giornata di mobilitazione nelle città italiane, e non solo dei soliti no green pass, ma anche di CGL, Cisle e Wilke hanno deciso di protestare per chiedere all'esecutivo e a Mario Draghi di cambiare la rotta e il contenuto della legge di bilancio. Dopo la discussione sulle pensioni, finita con lo strappo dei leader sindacali che hanno criticato apertamente la scelta del governo, al centro della polemica c'è la riforma fiscale e vi 8 miliardi previsti in manovra per il taglio delle tasse. La trattativa sul fisco, se c'è, non può essere che ci convocano per dirci cosa ha deciso la maggioranza e per informarci protesta il segretario della CGL, Maurizio Landini e il governo e i partiti devono sapere che se pensano che questo è il rapporto con i lavoratori non si va da nessuna parte. Non siamo disponibili a fare da spettatori Per Landini, che parla dal palco di Piazza Santi Apostoli a Roma, servono più di 8 miliardi per una vera riforma fiscale, questi devono servire ad aumentare i redditi da lavoro e da pensione a partire da quelli più bassi, non ci può essere un'operazione che tutela tra i redditi medio e alti? Ma non solo, serve anche porre la questione della lotta all'evasione fiscale, è un tema di volontà politica quella di affrontarla. Il governo si era preso l'impegno di riconvocarci, ma c'è un evidente ritardo che va colmato già nei prossimi giorni.